I nomi dei TAO Awards 2018 Sara Cavazza-Fachini per Genni, premio per la moda edizione Gold 2018 Piccione Piccione, Capucci, Cividini, Lecopen e poi passiamo al design per Ruccio Laviani il cui premio sta già qui posizionato sul tavolo Stefano Guindani, il più importante e celebre fotografo di moda italiano nel mondo un premio importantissimo ed è il TAO Awards Excellence per il Cavalier Nardo Filippetti per la scienza e per la medicina Riccardo Masetti per il giornalismo di moda Patrizia Vacalebri, Anza per la cultura della moda e del costume Fabiana Giacomotti per la musica a Giovanni Caccamo per la categoria scrittori il premio va a Manuela Gisberto un premio speciale per il progetto Save Borsalino al comune di Alessandria e alla giornalista della stampa Valentina Frezzato in occasione dell'appuntamento di giovedì 19 luglio al Grand Hotel San Pietro annuncieremo insieme a Catena Fiorello le altre categorie dei premiati e vi posso garantire che sono nomi molto 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 interessanti oltre a quelli che abbiamo già annunciato oggi